La band che vi presento adesso è una band fondamentale per quello che riguarda il Festival Waterland perché sono stati ospiti già dal 2015-2016. Sono tre musicisti fantastici che poi ci faranno fare un giro musicale nelle varie percussioni e dal mondo, quindi è un discorso anche culturale molto interessante. Luigino Pallotta, all'accordéon o fisarmonica se lo chiamiamo in maniera italiana, ma l'accordéon fa più figo, dai. Luigino Pallotta, al contrabbasso Claudio Mangialardi, alle percussioni pigrafono Marco Lorenzetti. Signore e signori abbiamo una mezz'ora di viaggio tra il Sud America e il repertorio di Astro Piazzolla, il tango, il gypsy jazz, l'improvvisazione jazz uniti insieme in questi tre strumenti uniti insieme, ovvero la fisarmonica e il contrabbasso e le percussioni. Signore e signori, a Waterland 2023 non edizione, il trio Cadena. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Allora, consegna la targa. Grazie a tutti. Quindi vi ringrazio per questa attenzione questa sera, vi ringrazio la Prologue di Ciudadamalta per aver creato questo momento di cultura che è per tutti e sono qui per consegnare questa targa che è del Festival Worldland 2023 in memoria di Luca Catena. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.